buonasera a tutti un caro saluto a quelli che ci ascoltano oggi e che da tempo seguono questo ciclo di incontri organizzati dalla fondazione basso che ha il titolo alle spalle del futuro è un ciclo curato da Giacomo Marramao e da Nicola Vassallo due filosofi per indicare che l'intento è stato quello di non discutere di non affrontare temi di polemica spicciola ma di cercare di elevare un po il dibattito e i due interlocutori che abbiamo oggi chiamati a questo dialogo sulla scuola sono Chiara Saraceno e Andrea Mornironi la scuola dunque mettiamo al centro di questo nostro incontro e confronto giorni fa il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza direi quasi alla unanimità una modifica dell'articolo 9 della Costituzione per tutelare l'ambiente la biodiversità gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni è specificato e a noi pare molto importante che un paese una classe dirigente sia pure con qualche decennio di ritardo rispetto ad altri paesi europei eh prenda in considerazione a livello costituzionale l'interesse delle future generazioni ecco ciò che noi auspichiamo è che si tratti di una indicazione che diventi politica concreta abbiamo il timore che potrebbe diventare rischierebbe di realizzare solo un'operazione un po di facciata un'operazione retorica con riferimento ad un futuro indefinito se non si affrontano con priorità e con interventi concreti i problemi del futuro immediato anche mettendo al centro dell'interesse dell'impegno collettivo la scuola punto la scuola che è dovrebbe essere il luogo per l'eccellenza per la formazione dei bambini e dei giovani che sono i protagonisti del futuro da tempo invece la scuola è trascurata ed è ridotta da istituzione della Repubblica Democratica che è deputata all'educazione e alla maturazione di personalità di cittadini attivi e consapevoli al luogo di acquisizione di titoli e di nozioni spesso funzionali al mercato e al mercato del lavoro la tragedia dei due ragazzi ieri Giuseppe Lenoci sedici anni il ventuno gennaio Lorenzo Parrelli diciotto anni che sono stati uccisi in fase di formazione e non è molto rilevante se formalmente fossero o meno nell'ambito dei cosiddetti stage dell'alternanza scuola lavoro queste morti sono non solo cronaca drammatica ma insieme fotografia del deterioramento della concezione della scuola pubblica e sono un campanello d'allarme che ci sollecita tutti a voltare pagina come peraltro chiedono i tanti ragazzi e le tante ragazze che in questi giorni nelle nostre città nelle nostre scuole esprimono forte il loro disagio e pretendono innanzitutto un ascolto come cittadini in un normale paese democratico anche se cominciano a dubitare e noi insieme a loro che questo sia davvero un normale paese democratico già che le proteste giovanili vengono affrontate con i manganelli anziché con un confronto e sul punto ci auguriamo che i tanti sedicenti liberali che dicono in questo paese di voler costituire un punto di riferimento facciano valere la loro voce istruzione scuola pubblica salute e sanità pubblica sono insieme diritti fondamentali e servizi essenziali che come tanti altri diritti e servizi di welfare il paradigma neoliberista ha progressivamente ridimensionato nella realizzazione del cosiddetto stato minimo che viola e contraddice gli impegni e le promesse solennemente affermate nella costruzione della repubblica si pensa solamente a ciò che è successo nella scuola negli ultimi vent'anni per rimanere quasi alla storia più recente si pensa alla formazione al trattamento economico dei docenti con connessi effetti sulla loro motivazione sull'autostima sull'assima sociale ma si pensa anche al reclutamento e all'edilizia scolastica che sono con cause non secondarie di classi affollate con problemi aggiuntivi in questi due anni per il contenimento dei contagi da covid la pandemia ha messo a nudo i problemi già preesistenti ha accelerato la crescita delle disuguaglianze a cominciare da quelle derivanti dalla tecnologia i problemi della dad i tanti ragazzi che si sono sentite e oggettivamente sono stati discriminati a causa di risorse mancanti strumenti di connessione difettivi spazi abitativi ridotti competenze familiari magari inesistenti ecco noi abbiamo la fortuna oggi di avere in questo dialogo due persone che a livelli e in ambiti diversi da sempre sono impegnate sui temi dei diritti e dei servizi sociali e specialmente della scuola la professione saraceno chiara saraceno sociologa di fama internazionale grande esperta di politiche sociali e di strumenti contro l'embargirazione e la povertà di politiche mutamenti familiari di questioni femminili relative soprattutto alla strategia di conciliazione tra tempi familiari e tempi di lavoro esperta in rapporti tra generi e generazioni e portavoce dell'alleanza per l'infanzia che fa parte della più grande rete chiamata educazioni che opera per il contrasto alla povertà educativa e la promozione dei diritti dei minori tutti sanno che una collaboratrice prestigiosa della repubblica e della stampa di torino è intervenuta ripetutamente con grande autorevolezza sui temi del reddito di cittadinanza della scuola della dad tanto per rimanere alle questioni di più acceso dibattito degli ultimi mesi andrea mordiroli è più di casa in questa fondazione anche egli da più di 30 anni si occupa di politiche di azioni di welfare a livello locale e nazionale con riferimento a particolare ai temi delle immigrazioni delle fragilità delle persone ha collaborato per lungo tempo con l'assessorata alla scuola istruzione del comune di napoli con responsabilità sui temi della dispersione e del disagio scolastico ha contribuito alla nascita di quella rete a cui accennavo prima educazione e coordinatore insieme a fabrizio marca del forum disuguaglianze e diversità perciò dicevo è più intrinseco alla fondazione giocché il forum ha preso l'avvio proprio dalla una serie di confronti all'interno della fondazione basso che con altre sei organi con altre sette organizzazioni di varia provvedienza culturale ha dato vita al forum e all'interno del forum andrea mordiroli è responsabile del gruppo educazione impegnata appunto nel contrasto alla povertà educativa recentemente ha dato vita ai patti educativi territoriali e abilitanti ed è coordinatore di un progetto nazionale contro la dispersione scolastica con azioni in campania in toscana e in piemonte ecco più che su tanti problemi di cui soffre la nostra scuola noi vogliamo partire come stiamo facendo dal malessere che sta esplodendo in queste settimane e ci chiediamo e chiediamo ai nostri ospiti come hanno inciso sulla scuola e sui ragazzi questi anni di pandemia che effetto hanno avuto dal punto di vista pedagogico e del vissuto i vincoli sanitari i provvedimenti adottati dai responsabili sanitari e dai responsabili scolastici e quale incidenza a breve ma anche quali effetti a lungo termine quali avranno queste restrizioni di questi due anni questa scuola ridotta e che prospettive abbiamo di reale cambiamento ecco su questo ma ovviamente con ampia libertà di spaziare sul tema diamo la parola alla professoressa chiara saraceno grazie grazie mille e buonasera a tutti ma parto proprio da questa domanda per poi cercare di fare una riflessione magari un po più ampia che cosa cosa è rimasto quello che colpisce neanche nelle manifestazioni e nelle proteste degli studenti è il fatto che viene espresso essenzialmente quasi solo un disagio e parto da dalla protesta che personalmente trovo meno come dire meno fondata ma che mi interessa per quello che ci dice che la protesta contro l'esame di maturità così come è venuto disegnandosi dove la protesta dice ma noi non abbiamo imparato abbastanza noi non abbiamo imparato quasi nulla no diceva beh se non avete imparato nulla magari allora dovreste stare a scuola di più ma non è questa la mia risposta quanto il fatto che restituiscono un'immagine di questi due anni di pura perdita e io non sottovaluto il fatto che ci sono state grosse perdite anche negli apprendimenti formali ma il fatto che non sia stato data loro dalla scuola ma anche dal discorso pubblico sulla scuola e su quello che è successo a loro nella scuola l'idea che questi due anni invece potessero essere con tutto il peso la difficoltà anche i drammi perché molti di loro hanno anche perso qualcuno qualcuno di caro nella loro famiglia o nei loro cerchi amicali comunque che che non che ci sia l'idea che questi due anni sono stati due anni a perdere no questo vuol dire che la scuola in primo luogo ma anche l'intorno sociale non sono state in grado di restituire loro invece un senso anche di questo l'idea che anche questa esperienza brutta che non sarebbe stata necessaria per diventare grande per crescere ma comunque che c'è stata potesse essere elaborata vissuta rielaborata e costituita anche come invece l'esperienza di crescita e anche di apprendimento qui c'è stato e c'è a mio parere un grosso fallimento della scuola di là invece di casi meravigliosi e che sia Andrea che io possiamo conoscere e e che anche diverse volte abbiamo intercettato invece di insegnanti splendidi prestiti che hanno messo in campo non solo tutte le azioni possibili perché la perdita di apprendimenti formali fosse il più contenuto possibile ma addirittura per arricchire per fare tesoro per usare anche questa esperienza per far crescere i loro studenti ma complessivamente c'è stato e c'è anche negli atteggiamenti anche del ministero eccetera l'idea che comunque c'è stata una perdita che va più o meno contenuta ma c'è solo perdita e questo ci dice molto su come la scuola e chi e chi la governa percepisce e definisce se stessa appunto come puro luogo verrebbe da dire di trasmissione di nazioni anche di sviluppo di competenze ma di competenze formali importantissime io penso che la scuola poi debba anche preparare per anni che non solo ma per poi per le professioni per le cose che sicuro deve andare a fare nella vita insomma per per muoversi competentemente come cittadino e anche come lavoratori e lavoratrici però quella che invece viene sottaciuta quando addirittura non vista è la scuola invece come luogo di sviluppo delle capacità in senso molto più ampio innanzitutto di riconoscimento e sviluppo delle capacità dei bambini e poi dei ragazzi di cui anche la relazione le relazioni quelle tra docenti e studenti ma anche di tra gli studenti tra di loro sono importanti perché l'altro aspetto che colpisce in questa durissima vicenda della pandemia è il fatto che sia stata sottovalutata in generale addirittura si è parlato di distanziamento sociale quando bisognava parlare di distanziamento fisico quindi questa negazione della relazione come importante per il nostro stare al mondo ma si è sottovalutata l'esperienza e la mancanza di relazione forzatissima che è stata fatta soprattutto durante il primo lockdown dice vabbè hanno perso un po di socialità come se la dimensione relazionale che c'è nella scuola a più livelli fosse qualcosa di marginale che non ha a che fare con l'apprendimento che non ha a che fare con l'educazione qualcosa che avviene ai margini quasi clandestinamente non qualcosa che fa parte del processo educativo e dell'apprendimento stesso quindi questi due aspetti che sono stati molto evidenziati in negativo dalla vicenda pandemica mi sembrano molto importanti per quello che ci dicono ahimè negativamente sulla scuola su come ci sia una visione molto limitante non so se questo sia soltanto colpa della del neoliberismo magari è sempre stato così ma è sempre meno accettabile che sia così oggi e queste doppia sottovalutazione secondo me è anche una delle cause per cui la scuola e soprattutto in italia fallisce quella che dovrebbe essere una delle sue funzioni fondamentali cioè il contrasto le disuguaglianze questo dovrebbe essere come dire dovrebbe la scuola dovrebbe essere uno degli strumenti per cui si realizza l'articolo la seconda parte dell'articolo 3 della costituzione cioè la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della personalità questo vuol dire contrastare le disuguaglianze prima ancora che contrastare eh l'immobilismo sociale vuol dire mettere tutti in grado di sviluppare appieno le capacità che potenzialmente hanno e questo l'ha fallito ormai l'italia in italia è sistema non è avvenuto solo con la pandemia che di nuovo ha fatto esplodere le disuguaglianze eh per i motivi che diceva di impolito prima ma 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 c'era già cioè questa esplosione avvenuta eh in un contesto in cui le disuguaglianze nella nelle nelle risorse che la scuola mette a disposizione per eh per lo sviluppo delle delle capacità c'era c'è già noi siamo uno dei paesi eh sviluppati che ha la più alta percentuale di abbandoni scolastici precoci che poi diventano un'alta percentuale di di net e quindi di di giovani che non sono né in istruzione né nel 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 mercato del lavoro e così via cioè siamo e siamo anche un paese se noi guardiamo i dati eh Pisa cioè dei 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 test sulle competenze cognitive che vengono fatte a livello internazionale con tutti i limiti dei dei test lo sappiamo e però quando noi guardiamo questi dati comparativi siamo colpiti dal fatto che l'italia sia uno dei paesi in cui eh la la disuguaglianza di origine familiare quindi il il livello di istruzione dei genitori il tipo di lavoro che fanno incide così fortemente eh nelle disuguaglianze nelle competenze a parità di età e di eh di livello di livello di scuola quindi vuol dire che la scuola italiana è meno incapace che in altri paesi di contrastare le le disuguaglianze di origine sociale e questo dovrebbe essere un problema come dire fondamentale in una democrazia cioè dovrebbe essere eh il il tema eh al cuore del della politica come come fare in modo che le disuguaglianze non si riproducano da una generazione all'altra in modo così sistematico come invece avviene in Italia l'Italia è uno dei paesi in cui la riproduzione intergenerazionale delle disuguaglianze è tra le più eh consolidate così forti quindi vuol dire che abbiamo un sistema che è già a partire dal dai livelli dal del periodo formativo eh non riesce a contrastare eh le disuguaglianze non riesce innanzitutto perché non le contrasta nella formazione che per usare un termine un po' economicistico ma che non mi piace che non mi piace molto ma per intenderci del capitale umano che non riguarda soltanto il capitale umano che poi sarà eh possibile utilizzare nel mercato del lavoro ma significa nella capacità di cittadinanza di essere pienamente cittadini nella società in cui si vive d'altra parte eh non non possiamo eh celare quello che trovo abbastanza scandaloso che la questione della povertà educativa quindi della disuguaglianza grave in termini formativi e anche di esiti formativi eh sia entrata nell'agenda eh politica eh marginalmente peraltro ancora oggi marginalmente eh soltanto nel duemila e quindici che che nella famosa eh legge sulla buona scuola non si non venisse neanche nominata cioè una buona scuola che non che non ha una scuola che viene definita buona senza avere come tema centrale il contrasto alle disuguaglianze che non vuol dire dare lo stesso voto tutti e promuovere tutti vuol dire che anche che anche è un modo cinico secondo me di contrastare le disuguaglianze di far finta che che non che non ci sono e che non vengono cristallizzate occorre invece fare in modo di mettere tutti in grado di eh perseguire lo sviluppo delle proprie capacità ecco questo mi sembra il dramma della nostra scuola al di là degli esempi invece splendidi e meravigliosi che ci sono il fatto che non abbia come proprio tema centrale o diciamo il duplice tema dello sviluppo delle capacità dei propri allievi attraverso anche l'apprendimento disciplinare ma non soltanto attraverso questo e dall'altro lato eh di conseguenza il contrasto alle disuguaglianze a quelle disuguaglianze che hanno a che fare con l'origine sociale con con il genere eh con l'origine etnica eh con e così via cioè quelle disuguaglianze che sono socialmente strutturate e questo eh eh anche poi anche le disuguaglianze che invece sono biografiche la disabilità e così via ma paradossalmente eh a volte sembra che ci si ci sia più attenzione per questo perlomeno vengono nominate poi non necessariamente vengono eh affrontate in modo adeguato mentre invece delle le altre quasi spariscono eh o quando non spariscono del tutto mi fermo qui per adesso grazie professoressa Saraceno adesso diamo la parola ad Andrea Morliroli che anche con la sua esperienza anche pratica di territorio reagirà alle sollecitazioni che sono venute già in questa prima parte di discorso. Grazie buon pomeriggio a tutte e tutti eh mi è facile reagire a a all'intervento che ha fatto Chiara Saraceno perché eh mi trovo perfettamente in linea se se la guardo dal mio punto di vista cioè dal punto di vista anche dell'operatività di chi lavora con le scuole e tra l'altro personalmente in contesti anche di di disuguaglianza dura come alcune periferie esistenziali e geografiche della città di Napoli ma in generale girando l'Italia su questi temi sì è vero la pandemia ha come dire evidenziato come ha fatto su tantissimi altri aspetti eh quello che già prima non funzionava lo ha reso evidente ha agito come il luminol del dei carabinieri quando cercano le tracce di sangue no nel senso che che ha reso evidente le tracce del malfunzionamento del preesistente e dall'altra parte ha allargato e ha reso più dense le situazioni di maggior fragilità. Nella scuola è successo questo. Sicuramente c'è l'aspetto che diceva prima Chiara quando diceva eh che è stato sottovalutato l'aspetto che la chiusura delle scuole ha come dire provocato se in qualche modo la data ha consentito di continuare a fare matematiche greco anche se poi non è sempre stato così per i problemi che poi dirò sicuramente non ha più consentito la socialità e come diceva un ragazzo di Firenze in un video colloquio fatto con Gabriele Vacci in un progetto di dispersione dice quando mi sveglio al mattino per andare a scuola non vado a scuola volentieri perché devo fare la lezione di greco vado a scuola volentieri perché c'è il mio amico perché lì incontro la mia la ragazza che mi piace perché posso farlo scherzo al mio vicino perché posso rubare la matita cioè voglio dire perché c'è questo aspetto e tra l'altro se si guarda oggi i segnali che arrivano dai docenti uno dei grandi delle grandi criticità che la pandemia ha lasciato in eredità su tutta la platea scolastica in maniera ingigantita sulle situazioni più fragile è proprio questa perdita di capacità relazionale di socialità abbiamo segnalazioni fortissime di un'incapacità di lavorare in gruppo alcuni docenti ci stanno dicendo che la mascherina in alcune situazioni è diventata non soltanto più come dire la protezione sanitaria ma anche un modo per smascherare la propria emozione allo sguardo altrui abbiamo una rabbia diffusa di situazioni che sono state costretti in auto isolamento sono state a casa che esplodono e che fanno fatica oggi a stare in aula più di prima insomma quindi questo aspetto della socialità perduta del distanziamento sociale lo diceva prima chiara è sicuramente uno degli aspetti pesanti per cui è lasciatemelo dire la campagna e la regione che ha chiuso le scuole più di ogni parte altra di europa anche quando tutto il resto era aperto allora quando sento l'assessore regionale dice dire che in campagna la scuola non è mai stata chiusa perché tanto c'era la dad beh insomma no mi chiedo quale tipo di conoscenza di responsabilità istituzionale abbia questa dichiarazione non voglio dire come io l'anno scorso quando la scuola per un po riaperto con un progetto sono andato al primo giorno di scuola con degli altri educatori ad aprire l'anno in una scuola di rione luzzati a napoli rione dell'amica geniale visto che in questi giorni c'è la fission quindi tutti la conoscono insomma di ripoggiare io vedere quei bambini quelle bambine della scuola elementari quelli che non riescono mai a stare fermi che però stavano ore per entrare tutti in fila con il loro grembiolino eccetera e poi stavano quattro ore dietro al banco immobili pur di andare a scuola non stare più a casa beh dopo un mese dire a quei bambini quelle bambine che potevano andare dappertutto ma non a scuola io credo che abbia lasciato delle tracce drammatiche nella percezione della cosa pubblica e del valore dell'educazione in alcuni quartieri anche proprio come comunicazione che tu dai operatori scuole educatori associazioni fanno una gran fatica a ripristinare come dire un investimento delle famiglie sulla scuola e tu gli dici dopo un mese che possono andare dovunque ma non a scuola come se la scuola potrebbe essere la cosa sacrificabile prima di tutto il resto io penso che i prezzi di questo li pagheremo a lungo e qualcuno prima o poi ne dovrà rendere conto di queste scelte detto questo l'altro grande elemento in parte lo diceva chiaro a termine del suo del suo intervento e beh non c'è dubbio che se già prima della pandemia uno dei principali problemi della scuola italiana è che era 50 anni da un milano se fosse ancora il numero di ragazzi di ragazze che perde e beh la pandemia su questa è stata devastante cioè a pagare il prezzo più alto quelli che sono stati schiacciati verso il basso sono i ragazzi le ragazze più fragili quelli che già prima facevano fatica e come prima l'ottanta per cento di queste situazioni sono gli alunni figli e figli dei poveri delle famiglie con molti fattorialità di povertà sono gli alunni con background migratorio sono gli alunni con delle disabilità con delle difficoltà best insomma no la pandemia è stata se stata tra virgolette democratica nel suo espander sicuramente non è stata democratica nelle sue conseguenze a pagare il prezzo sono stati questi e anche le famiglie perché l'altro dato è stato che siccome in molte famiglie la perdita dei lavori di uno o più componenti del nucleo familiare perché magari in situazioni di lavori non tutelati da forma in ammortizzazione dei lavori non regolari per esempio nella città dove vivo per moltissime famiglie quella che era l'ansia di arrivare a fine mese è diventata l'ansia di arrivare fino a giornata e quando tu hai un bisogno materiale così forte così ansiogene così sul collo qualsiasi bisogno immateriale compreso l'investimento sulle carriere scolastiche dei figli viene sacrificato per cui noi oggi per esempio a napoli stiamo lavorando moltissimo con le famiglie per recuperare i ragazzi sopra i 16 anni che sono stati tolti da scuola per andare a lavorare in condizioni molto spesso di ipersfruttamento anche a 200 250 300 euro al mese in meno ma perché quei soldi servono a come dire a far arrivare al reddito puzzle di quella famiglia e quindi quindi oggi stiamo lavorando con le famiglie per riagganciare anche per offrire delle alternative a questo bisogno perché altrimenti non si riesce quindi come dire quindi divari più duri per chi già prima soffriva un altro dato in tutte in tre periferie napoletane in un anno di pandemia l'anno successivo sono triplicate le segnalazioni di inadempienza che sono le segnalazioni che le scuole fanno nei servizi sociali quando un alunno un alunno sono assenti da scuola per più di cinque giorni senza un valido motivo più che triplicate e un altro dato impressionante è stato che ci dicono i servizi sociali territoriali il 50 per cento quasi 50 per cento di queste segnalazioni arrivano da famiglie non conosciute dai servizi sociali quindi erano famiglie che prima della pandemia in qualche modo riuscivano a garantire la continuità della carriera scolastica dei loro figli che dopo la pandemia non ce l'hanno più fatta questa è la situazione che noi oggi abbiamo su alcuni territori e di nuova ragione chiara quando dice che già prima la scuola non riusciva tranne alcuni casi le magnifiche invenzioni come lei ha detto più volte come che incontriamo che stiamo facendo anche con moltissime scuole moltissimi docenti ma come dire si è rafforzata anche quella sorta di profezia che si auto avvera dove se io sono figlio o figlia di una famiglia operaia o comunque in situazioni di vulnerabilità economica il mio destino è il tecnico professionale anche se magari avrei voglia di fare il classico il liceo avrei anche le competenze e i voti come ha raccontato benissimo in un workshop di lavoro una ragazzina imma 17enne che aveva abbandonato i studi dice io quando ho finito le medie volevo fare il classico avevo dei bei voti ma mia mamma e mio papà mi dicevano che potevo fare l'alberghiero la mia insegnante mi ha detto che potevo fare l'alberghiero il preso dice che devo fare l'alberghiero ho fatto l'alberghiero 17 anni ho smesso di studiare perché non mi andava più e quindi oggi come dire se si vuole tornare a investire sulla scuola perché anche qui è vero quello che diceva franco ippolito prima se questi danni queste incapacità queste crisi arrivano da tantissimi anni di disinvestimento sulla scuola l'italia è l'unico paese che dal 2008 a oggi ha disinvestito in educazione disinvestimento è stato più forte nel momento in cui c'era l'assalto tecnologico e allora oggi se si vuole provare a rilanciare io credo che sia fondamentale proprio partire da queste situazioni di maggior fragilità cioè non possiamo pensare che si possa uscire da questa crisi con una scuola in cui le diseguagliante si sono allargate sono diventate più dure per i più fragili dobbiamo in qualche maniera provare di mettere al centro i margini e su quella centralità cioè sul trasformare la scuola in luogo più accogliente per chi fa più fatica a ripensare alla scuola per tutte e per tutti da questo punto di vista credo anche che i patti educativi di comunità poi chiamiamoli come vogliamo e con tutte le attenzioni del caso perché quando una parola incomincia a essere così usata come patti educativi di comunità in tutte le sedi e immaginando anche cose diverse rischia di diventare una parola abusata svuotata di significato è anche pericolosa però laddove funzionano i patti educativi di comunità cioè quei luoghi dove la scuola orgogliosa della sua centralità è stata così coraggiosa da percepire anche il suo limite nell'affrontare la multifattorialità che si porta via della povertà educativa ha costruito alleanze di reciproco riconoscimento col tempo con l'associazionismo, con il privato sociale con le cooperative, con gli operatori culturali, con gli imprenditori privati ha immaginato un modo per, come dire, ridefinire anche la didattica ma anche nel curricolare, non soltanto nell'estracurricolare io mi ricordo quando lavoravo con l'assessorata alla scuola del comune di Napoli quando siamo dieci anni fa, quando ho incominciato convincere una scuola a fare un laboratorio in curricolare era quasi impossibile tendevano quasi tutti a dirti sì ma poi c'è il laboratorio del pomeriggio la delega a tenerti i ragazzini più fragili o quelli irriducibili come li chiamo io il pomeriggio perché così almeno non fanno danni oggi dopo dieci anni quelle scuole con cui si è lavorato con più tempo sono loro a chiederti la coprogettazione in aula a immaginare la copresenza ad aprire la scuola al territorio e usare la scuola nel territorio cioè si stanno, come dire, muovendo delle dinamiche dei movimenti educativi che rimettono in gioco spazi, tempi e didattiche secondo me da lì bisogna un po' ripartire noi abbiamo fatto una proposta come forno di suguaglianze insomma dopo aver fatto una ricerca su queste esperienze al ministro Bianchi di aprire una sperimentazione di individuare utilizzando gli indicatori che ci sono invalsi, indire, delle reti di vari cento aree fragili del paese dobbiamo provare a sperimentare una politica nazionale che accompagni dei processi di costruzione di patti educativi di comunità con una politica centrale così autorevole coraggiosa non da utilizzare il bando il finanziamento a pioggia come in questi anni perché l'altra grande iattura è stata la logica dei bandi che hanno precarizzato gli interventi anche il lavoro molto spesso di un anno, sei mesi che determinano aspettative che poi muoiono rispetto a questo ma invece di pensare a processi di accompagnamento con meccanismi di coprogettazione per reti integrati che in qualche maniera accompagnino questi processi sembra che qualche cosa si stia sbloccando su questo parrebbe diciamo voglio dire che ci sia la volontà del ministro di aprire un percorso di questo genere con un comitato a livello centrale sarebbe una piccola svolta una piccola svolta anche nell'immaginare il ruolo della politica centrale in termini di accompagnamento quindi non di una politica che cala dall'alto e usa il band e l'avviso ma una politica che riconosce il fare locale lo porta dentro a un processo di indirizzo orientalmente coprogetta azioni declinabili sul territorio con risorse che sono così flessibili da declinarsi a quei bisogni però mi sembra che questa sia una delle possibilità poi ci sono chiaramente andrebbe riproposta la copresenza nella primaria a ragione Franco quando dice c'è bisogno di ripensare alla formazione alla retribuzione dei docenti credo anche immaginare degli incentivi per quei docenti che lavorano nelle aree periferiche più dure perché uno dei problemi di quelle scuole è l'eccessiva turnazione perché sono scuole dove i docenti arrivano i dirigenti arrivano e dopo un po' vogliono scappare e quindi nei posti dove ci sarebbe bisogno di maggior continuità c'è il maggior turnover di competenze e di lavoro anche di governo dei processi insomma le cose sono tante ma sicuramente questo tema usare la pandemia per mettere in luce quello che non andava a partire dalle povertà educative da lì ripartire per ripensare alla scuola mi sembrerebbe diciamo così una modalità intelligente di governare i processi anche in relazione ai soldi del PNR ma adesso mi fermo e poi casomai ci torno dopo grazie Andrea Morniroli che ha già dopo la situazione diciamo dopo il dramma che abbiamo vissuto tutti e i nostri ragazzi in particolare ha già imboccato la possibile prospettiva di una ripartenza io vorrei riprendere su questo sentire la professoressa Saraceno ma riprendere anche una espressione che lei ha utilizzato quando ha criticato l'espressione distanziamento sociale io ricordo che quando nella primavera del 2020 questo termine fu utilizzato a livello normativo dai DPCM furono pochissimi in questo paese ad avvertire la gravità di quella espressione e tra questi pochi noi orgogliosamente possiamo dire il forum e noi della Fondazione Basso anche perché c'era facile noi quotidianamente lavoriamo e analizziamo le situazioni alla luce di quello che ci appare l'impegno più rilevante che la Costituzione ha promesso ai cittadini che è l'articolo 3 secondo comma come diceva Calamandrei una rivoluzione promessa non è ciò che è successo a livello di scuola ciò che prima la professoressa Saraceno ci ha illustrato cioè la sottovalutazione di quello che veniva quasi considerato un effetto collaterale socialità o non socialità perché l'importante era altro e questo è secondario è il riflesso proprio di culture a livello politico molto più profonde del resto le parole esprimano ideologie e culture formano e conformano allora dalla professoressa Saraceno che ha nella sua esperienza una molteplicità di punti di vista e che non a caso ha messo subito al centro l'impegno di rimuovere gli ostacoli che sono problemi della scuola ma prima ancora sono problemi di classe dirigente responsabile di questo paese qual è la sollecitazione la via di ripartenza il messaggio culturale globale che intellettuali studiosi fondazioni culturali e di cultura politica in particolare come la Fondazione Basso possono esplorare per sollecitare i decisori politici davvero ad approfittare virgolette positivamente di ciò che è successo e del dramma che abbiamo vissuto e in parte viviamo ancora soprattutto i nostri ragazzi per voltar pagina una domanda piuttosto grossa voglio dire è una domanda come dire non sono mattarella che fa il discorso del secondo insediamento ma io non mi stanco mai di ripetere che la questione delle disuguaglianze deve essere al centro di tutto cioè come affrontiamo la questione delle disuguaglianze perché siamo un paese forse non l'unico ma sicuramente di fronte a un bivio perché anche il piano di ripesa e resilienza come usciamo dalla pandemia può finire con un aumento delle disuguaglianze o invece con l'instaurazione di meccanismi nella scuola ma anche nel mercato del lavoro e una serie di cose che invece si pongono esplicemente esplicitamente l'obiettivo di ridurle di contrastarle questo è veramente cruciale perché possiamo andare se noi pensiamo il digitale anche anche le politiche ambientali eccetera possono andare in una direzione o nell'altra da questo punto di vista e il rischio che aumentino le disuguaglianze è fortissimo anche facendo delle cose che vogliamo buone l'ambiente e così via quindi bisogna questo secondo me è un tema o diventa un tema consapevole e assunto almeno dalle forze politiche che hanno problemi che si pongono i problemi del bene comune oppure davvero la vedo molto 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 brutta questa vicenda piccola osservazione sul distanziamento sociale noi abbiamo è stata usata questa parola anch'ero tra quelle che subito l'ha criticata perché mi sembrava proprio assurda nel momento dovevamo stare fisicamente lontani si diceva anche che non dovevamo avere relazioni come se l'unica relazione possibile fosse quella del faccia a paccia quindi oltre alla deprivazione anche di movimento c'era proprio anche la deprivazione relazionale ma invece era dove per certi versi sono anche aumentate molto invece le relazioni per quanto virtuali come quelle che stiamo facendo adesso forse è anche sbagliato dirle virtuale perché è una relazione reale anche se la visibilità è virtuale dobbiamo un po' cambiare il nostro vocabolario per non indurre dei falsi significati ma a questo proposito e tornando alla questione della scuola una delle cose che mi ha colpito sentendo alcune esperienze negative rispetto alla Dado oltre a quelle che avete che ha detto lei che ha ripreso anche Andrea prima cioè proprio il fatto che molte famiglie non ce l'hanno fatta fare la Dado non c'avevano gli strumenti non c'avevano il luogo non c'avevano le competenze e così via ma a volte non c'era la connessione e quindi c'era anche questo piccolo problema cioè fuori la connessione non arrivava però per alcune famiglie e per alcuni ragazzi è stato anche un'esperienza violenta di da un lato di esposizione della propria disuguaglianza della propria deprivazione c'era chi aveva la cameretta e chi no non c'era solo chi aveva no io racconto sempre l'esempio di una amica di una mia conoscenza la mia conoscente mi ha detto che tu con la sua sorella quando i suoi figli erano in dad ne aveva due uno era in cucina l'altro era in bagno sulla lavatrice allora cosa fai quando la tua insegnante dice che vuole vedere tutto per capire che non c'è nessuno che ti suggerisce e tu cosa fai vedere che c'è il water dietro di te o se va bene c'è la mamma che stira mi piacerebbe dire il papà che stira ma è raro o piggio ancora ci sono state alcune famiglie migranti straniere che l'hanno vissuto come una forte lesione della propria privacy cioè tu entri in casa mia senza che io ti abbia invitato forzi la tua presenza in casa mia quindi altro che distanziamento sociale c'è stato in alcuni casi una forzatura che non è stata sempre vissuta positivamente al di là delle difficoltà cioè ci sono stati meccanismi sia sociali cioè che ci si sentiva ci si vergognava alcune volte del proprio ambiente di cosa veniva fatto vedere ma a volte era proprio una questione di privatezza perché stai nel mio salotto nella mia camera da letto quando non ti ho invitato tutti vedono il mio salotto nella mia camera da letto quando c'è un problema di intimità e così via quindi anche questo è stato a volte ignorato anche dagli insegnanti no che con la pretesa del controllo che io anche capisco perché anche loro avevano le loro difficoltà però non si rendevano conto della dell'intrusione poi i ragazzi più furbi facevano anche dicevano che cadeva la connessione anche i ragazzi ci hanno messo di loro facevano le loro chat private mentre l'insegnante quindi di tutto e di più ma anche questo avrebbe dovuto essere elaborato in qualche modo no? e forse questo ci può insegnare qualche cosa che cosa vuol dire avere il rapporto con gli insegnanti dei genitori insegnanti nelle distanze culturali cioè forse apprendere qualche cosa prima Andrea diceva che c'è un problema anche di formazione degli insegnanti cosa su cui assolutamente concordo che è uno degli aspetti più trascurati mi sembra di dire nel nostro paese tardivamente si è arrivati al fatto che per insegnare una materia bisognava anche insegnare la didattica specifica di questa materia no? non necessariamente uno che sa la matematica sa anche insegnarla ma ancora più difficilmente si arriva invece a pensare che l'insegnamento in quanto tale richiede delle competenze al di là di quelle disciplinari e della didattica disciplinare cioè che c'è un problema di apprendimento di come si fa didattica e come si fa didattica oggi con i bambini e con i ragazzi di oggi e nel mondo di oggi che è del tutto trascurato per cui giustamente ci lamentiamo che anche se formalmente gli insegnanti oggi quando fanno i concorsi dovrebbero dimostrare di avere competenze digitali ho scoperto che dovrebbero già da prima dovevano avercele poi non ce le avevano affatto allora diciamo è tutto molto formale poi protestiamo che gli studenti imbrogliano ma oggi accanto a queste competenze occorrono delle competenze relazionali delle competenze anche di lavoro in equip che giustamente si dice i ragazzi non hanno ma come facciamo a insegnarle ai ragazzi se non siamo capaci di fare noi se non siamo capaci di lavorare davvero in equip che non è semplicemente fare il consiglio di classe è un'altra cosa la programmazione degli orari come facciamo a insegnare delle famose tesine multidisciplinari se noi non siamo capaci di coordinare il nostro insegnamento di far vedere in essi tra il nostro insegnamento la nostra materia e le altre materie c'è tutto un mondo secondo me qui da esplorare e su cui battersi per una scuola migliore che è stato evidenziato dalla pandemia ma che c'era già prima Andrea Norniroli negli ultimi nelle ultime settimane si è accesa una polemica per l'ennesima volta Nord Sud anche a seguito della previsione di una percentuale di risorse del PNR destinate al Sud già per decisioni della Unione Europea ora come possiamo collocare questa polemica spesso pretestuosa perché da una parte e dall'altra i cosiddetti governatori che io più correttamente chiamo ancora presidenti delle regioni alcuni del Nord e altri del Sud si sono tirati insulti l'un dietro l'altro come possiamo immettere in questo discorso tutte le necessità della delle aree interne e delle aree marginalizzate per reinnescare finalmente un salto di qualità che coinvolga anche la scuola e i problemi di cui avete parlato fino a questo momento credo che come prima cosa che questo tema del dibattito in Nord-Sud avviene in maniera completamente superficiale utilizzando una serie di luoghi comuni come spesso ormai capita in questo paese sui dibattiti invece che avrebbero bisogno una grandissima attenzione complessità prima nella presentazione citavi Franco il lavoro di Chiara Saraceno sul reddito di adianza se penso al dibattito di questo paese sul reddito mi viene da mettersi le mani nei capelli perché è tutto fatto sugli stereotipi sulla superficie in bianco e nero con gli schieramenti con la ricerca più delle rappresentazioni che non della realtà detto questo quindi al di là della polemica oggi Sala De Luca e via dicendo insomma è evidente che se noi abbiamo detto che la scuola ed educazione sono un presupposto allo sviluppo giusto del paese e sono una delle politiche primarie per la rimozione degli ostacoli che impediscono il sviluppo della persona umana e quindi per giure diseguaglianze non c'è dubbio che oggi vada fatta più attenzione per le aree del paese che sono più fragili e quindi che lì vada a concentrare un investimento per recuperare i divari noi voglio dire la copertura di asili di servizi 06 diciamo in Trentina del 28% in Calabria del 2 il fallimento formativo e la dispersione implicita in Calabria è del 27% dopo i due anni di pandemia e prima era del 21 in Campania del 23 e prima della pandemia era del 19 quando in altri territori è d'intorno al 5-6% quando dico dispersione implicita intendo non soltanto i ragazzi che si perdono abbandonano precocemente gli studi ma quelli che concludono la secondaria e il secondo grado non avendo le competenze adeguate non solo per ricercare l'amore ma anche per poter esercitare a pieno titolo i propri diritti di cittadinanza quindi quando tu hai questi numeri è evidente che in qualche maniera devi privilegiare gli interventi nelle aree più fragili perché altrimenti non c'è lo sviluppo per il paese per tutto il paese dopodiché le affermazioni che ci sono sono anche poi tutte quante da vedere se poi sono concretizzate perché al di là delle indicazioni della Comitazione Europea ma per esempio nel PNRR c'è scritto che l'obiettivo è quello di raggiungere il 33% di copertura dei servizi 06 però non si dice né dove né quando con quali percentuali perché un conto è dire che questa media deve essere raggiunta in tutte le parti del paese un conto è dire che si deve arrivare a quello magari avendo le regioni al 50 e altre al 20 e tra l'altro i primi bandi che sono usciti su questo sono stati bandi abbastanza complicati da questo punto di vista perché intanto introducono e continuano a scegliere il meccanismo della competizione quindi cosa succede? Il meccanismo della competizione può avere un comune più forte magari che ha meno esigenza ma che ha un ufficio tecnico più bravo che compete e vince e di fianco magari c'è il comune privato di servizi che non ha quella capacità e lo perde quindi continua ad allargare le diseguaglianze piuttosto che renderle più omogenee quindi in qualche modo andrebbero anche qua introdotti dei meccanismi differenti di accompagnamento che intervengano davvero dove ce n'è più bisogno trovando delle indicazioni tra l'altro anche qua il rischio vero è che invece alcuni dei parametri indottati considerati come premerità nei nuovi bandi è la capacità di spesa o i posti già esistenti quindi finendo inevitabilmente per promuovere chi è più bravo e quindi se i bandi sono questi corriamo il rischio che nonostante le indicazioni al Comitato Europeo e le percentuali di riserva finirà che gli asili si faranno in Emilia Romagna e Lombardia non in Campania e Calabria quindi in qualche maniera questo tema proposto è un tema centrale molto complesso molto difficile perché poi c'è anche un'incapacità di spesa che pesa sui ritardi di alcune regioni perché non c'è dubbio che i fondi arrivati in Campania piuttosto che in Calabria sono rimasti molto spesi non spesi perché non c'è la capacità di spetterli o sono stati spesi male perché sono stati spesi su logiche ma non soltanto tra l'altro nel sud diciamo purtroppo però sicuramente questo è un problema centrale d'altra parte c'è anche un altro tema perché poi bisogna fare attenzione perché si fanno le affermazioni e poi però se si leggono i documenti si trovano non si trovano delle indicazioni che poi rendono coerente anche la messa a terra di queste indicazioni faccio un esempio in tutto il PNRR tranne che in una parte iniziale quando si parla di servizi 06 tranne due righe della premessa si parla sempre di servizi che servono alla conciliazione dei tempi per le famiglie sacrosanto ma non si dice mai che i servizi 06 sono un diritto dei bambini e delle bambine indipendentemente dalla conciliazione dei tempi allora se tu la vendi così certifichi l'atteggiamento per esempio che si trova in tante parti del mezzogiorno in cui siccome la mamma non la vuole che bisogna di mandare il bambino e la bambina al niente mica un problema di conciliazione dei tempi cioè se non passa la cultura che è l'inserimento precoce in percorsi educativi è un diritto delle bambine dei bambini ed è l'unica chiave per non fare accumulare disuguaglianze nel corso della loro vita oppure le cose non passano non si modificano perché non c'è dubbio che come diciamo come forum che buona parte di quelle disuguaglianze di cui abbiamo parlato oggi dipendono anche da un cambiamento del senso comune che in questi anni ritiene quasi quelle disuguaglianze non più un problema ma una sorta di prezzo inevitabile da pagare per la crescita quindi insomma questo tema del rapporto è uno dei temi centrali e forse vi verrebbe da dire che oggi i maggiori investimenti vanno fatti nelle aree più fragili per accompagnare a ridurre quei divari che impediscono poi complessivamente lo sviluppo del paese perché con i numeri che dicevo prima non si va da nessuna parte non è credibile cioè o tu fai un intervento più forte nei contesti più svantaggiati oppure difficilmente puoi essere credibile anche semplicemente quando parli di legalità o di sviluppo oppure corri il rischio che anche altre cose giuste se ho capito bene quello che diceva prima Chiara quando pensavo alla questione ambientale rischi se non c'è una cultura diffusa e se non c'è un'attenzione a collegare in maniera stretta giustizia sociale e giustizia ambientale che anche la transizione ecologica produca ulteriori disuguaglianze cioè non viene né attenzionata a monte ma se non si creano anche la cultura perché oggi molte diciamo così sono i garantiti e i benestanti a usufruire dei primi cambiamenti positivi del cambiamento climatico mentre invece sono i poveri e gli ultimi a pagare i prezzi maggiori voglio dire del disastro ambientale e del disastro climatico e quindi in qualche maniera come dire mi sembra tutto un processo che si lega senza un intervento diffuso culturale educativo non c'è neanche voglio dire la possibilità di far crescere una cultura diffusa e una consapevolezza della necessità anche di alcuni passaggi che sono inevitabili e giusti ma che se non presi in carico in questo modo rischiano di produrre ulteriori disuguaglianze io non vorrei che ai nostri ascoltatori residuasse la convinzione che siamo di fronte ad uno sfascio complessivo e che non riusciremo come paese a venirne fuori mi piacerebbe che illustraste ognuno con la propria esperienza e conoscenza i pezzi di sistema scolastico che funzionano le aggregazioni positive i momenti che avete verificato come magari non frequenti ma che possono essere un polo aggregativo con una potenziale capacità di essere imitati insomma vorrei col vostro aiuto evidenziare che in questo paese ci sono tante persone che quotidianamente prendono sul serio il loro lavoro e che riescono a far a vivificare i territori e anche i territori scolastici che sono quelli che ci danno il segno concreto delle possibilità di uscire dalle difficoltà prima come dire l'innovazione e poi forse anche sbagliato dire innovazione cioè una didattica un modo di fare scuola ricco e che è capace anche di tenere i ragazzi e di portarli anche agli apprendimenti necessari anche quelli formali le esperienze sono moltissime in Italia in questi due anni anche come rete di educazione su cui poi torno abbiamo fatto incontri con insegnanti con preside con scuole e poi le nostre associazioni quelle che fanno parte delle nostre reti hanno al loro interno sono anche portatrici di esperienze diverse a volte collegate anche ai bandi di contrasto alla povertà educativa e altre per altri di genere quindi quello che colpisce colpisce per esempio a me che ho insegnato per tanti anni all'università che è un altro tema su cui forse prima o poi dovrete parlare e non nella scuola non negli ordini di scuola prima dell'università che conosco invece me solo come mamma nonna più dall'esterno però mi colpisce questa ricchezza che però è una ricchezza che non riesce a diventare sistema questo è il problema cioè l'Italia ma non solo da adesso se noi pensiamo al movimento di cooperazione educativa che risale non mi ricordo bene agli anni 60 forse anche prima cioè ha una tradizione di di sperimentazione di innovazione e di capacità di innovazione continua perché quello che magari si faceva 40 anni fa non è più adatto oggi ricchissima bellissima pensiamo anche soltanto che abbiamo l'asilo nido più studiato al mondo quello di Reggio Emilia poi ce ne sono tanti che sono altrettanto buoni ma i diversi governi che si sono succeduti non hanno mai avuto il coraggio la voglia l'idea di far diventare questa esperienza sistema quindi programma formativo programma organizzativo delle scuole modalità appunto di fare didattica normale poi con tutte le variazioni di qualità che dipendono dagli individui ma comunque che quello sia il modo e questo è il problema come mai io mi interrogo come mai non si è riusciti d'altra parte pensiamo che noi siamo il paese in cui quando non si vuole fare non si vuole mettere a regime qualcosa si dice che si fa una sperimentazione di solito nei paesi per esempio agrosassoni la sperimentazione è fatta per poi andare a regime si sperimenta per vedere cosa funziona cosa va giustato per poi andare a regime anche nelle policy invece noi facciamo la sperimentazione per poi finirla lì anche sul reddito minimo degli anni del 96 è finito lì poi si è inventato un'altra cosa che non aveva alcuna relazione con la sperimentazione ma nella scuola così pensate il tempo pieno quanti anni è durato come sperimentazione dopodiché fecero una riforma della scuola in cui si è fatto il tempo lungo senza dire perché cosa non aveva funzionato no? per cui ha continuato a esserci anche il tempo pieno ma il modo normale è stato il tempo lungo quindi il problema non è la mancanza di idee su come si potrebbe fare per questo io condivido con Andrea la preoccupazione che il termine patti educativi territoriali diventa una nuova formula ma non vada davvero a regime come pratica che richiede continua messa a punto eccetera cioè è la la non volontà per motivi complicati c'entrano in parte anche i sindacati o il sospetto ma poi c'entra il fatto che noi ogni ministro che arriva che non si costruisce mai sul cioè siamo un paese molto inerziale ma quando si vuol fare qualche cosa non si costruisce sul noto sullo sperimentato si inventa una roba nuova da capo quindi è paradossale perché siamo tra l'inerzia e l'innovazione organizzativa fondata su nel migliore dei casi su una sulla bella pensata che si è fatto qualcuno non su dati consolidati verificati e così via comunque ripeto noi abbiamo una tradizione del fare scuola cioè dentro il fare scuola abbiamo una tradizione di capacità didattica innovativa sia interna alla scuola sia invece nelle relazioni col territorio molto ricca questa cosa dei patti educativi di cui parlava prima patti educativi di comunità o territoriali di cui parlava prima Andrea è molto importante là dove sta funzionando e ci sono delle esperienze su cui costruire e da curare con attenzione un altro dato questo davvero nuovo è il fatto che si sono anche a motivo della pandemia alcune cose avevano cominciato a nascere prima della pandemia ma hanno avuto un forte impulso dalla pandemia c'è tutto un movimento una rete associativa che si è anche collegata dentro alla rete educazione ci sono reti che prima lavoravano in isolamento che invece adesso fanno una massa critica che confrontano i loro punti di vista scrivono documenti e fanno lobby nei confronti del governo assieme e questo quindi si sta costruendo un senso comune diffuso almeno tra gli addetti ai lavori non in isolamento che secondo me è importante potrebbe diventare davvero una leva anche per il cambiamento per esempio nella formazione dei docenti e come attenzione su come sul territorio per esempio uno dei documenti che abbiamo appena fatto è sui bandi sull'edilizia scolastica dove siamo un po' preoccupati che questi bandi con i fondi al PNR non mettano adeguatamente assieme la questione della sostenibilità ambientale con la questione della sostenibilità didattica ad esempio e con il rapporto con il territorio c'è il rischio che nascano già vecchi però qui c'è un'attenzione che forse prima non c'era si faceva la scuola lì e non ci si pensava più che tanto su come doveva essere fatto per cui c'è una mobilitazione critica che forse è un buon segno però se non trova ascolto diventa un pochino come dire rischia di che di nuovo si vada nella sfiducia o nell'autoreferenzialità quindi questo rischio c'è Andrea ma sta trovando ascolto da parte dei decisori penso che il tema sia questo sono assolutamente d'accordo che questo è un paese ricchissimo di esperienze dove spesso i protagonisti sono le stesse scuole io credo che in alcune aree di questo paese la scuola se penso alle periferie urbane è tra le poche istituzioni pubbliche che ancora c'è un rapporto con contesti che normalmente diffidano delle istituzioni della cosa pubblica si sentono abbandonati da quei centri da quelle istituzioni mentre invece la scuola la riconoscono quindi c'è anche un grandissimo valore di ricostruzione di un rapporto positivo con la cosa pubblica e ci sono tantissime esperienze che lavorano da nord a sud perché l'altra cosa importante di questo periodo è che queste esperienze di cui parlava prima che era saraceno sono diffuse non è che sono soltanto in una parte del paese anzi a volte nelle aree più fragili sono più innovative di quelle che stanno in sistemi di welfare forte se dovessi pensare ad alcune esperienze faccio un esempio in un quartiere di periferia di Palermo c'è una preside Antonella Di Bartolo che intorno alla sua scuola ha recuperato un rapporto con le mamme con le famiglie che non investiva nei rapporti con le carriere scolastiche dei figli perché ha con la sua scuola attivato vertenze e conflitti territoriali aggregando le famiglie per chiedere servizi territoriali che non c'erano l'apertura di un consultorio di un servizio 06 la scuola è diventata animatrice di vertenza sociale di auto-organizzazione su quel territorio e Antonella Di Bartolo quando la rivendica dice io l'ho fatto perché so che se chiude la mia scuola in questo quartiere chiude la piazza perché la piazza non c'è in questo quartiere quindi diciamo oppure a Ferrara per andare nel nord dove ci sono degli istituti tecnici che con un patto educativo di comunità con gli imprenditori hanno ridotto in quattro anni la dispersione scolastica l'abbandono scolastica del 7% dati alla mano con sistemi di monitoraggio di impatto quindi il paese è pieno di queste esperienze nord-ciud il problema è che quel passaggio da straordinarie sperimentazioni a politiche ordinarie non c'è perché i decisori non ascoltano c'è una cesura anche qua con le eccezioni ma tendenzialmente c'è una cesura non c'è il coraggio un'autorevolezza dei decisori un'umiltà di ascoltare chi propone cose che si possono fare perché già si stanno facendo a volte diciamo così mancano indicatori più strutturati forse bisognerebbe accompagnarle mancano delle figure certe volte non c'è la formazione ma non c'è dubbio che oggi perché è lì il grande salto perché prima Chiara Saraceno faceva riferimento al momento cooperativo c'è stato un periodo in cui su altri settori penso per esempio a tutto il tema sociosanitario grazie a un movimento e esperienze del paese si sono prodotte politiche nazionali diffuse che sono diventate ordinarie pensate ai servizi territoriali sulle toscodipendenze o sulla salute mentale o lo svuotamento dei manicomi lì c'era un movimento che in qualche maniera nasceva proponeva dall'altra parte c'era una politica attenta e capace di mediare questo movimento di produrlo in politica e di sostenerlo è evidente che se poi tu negli anni quell'idea di cura dentro la comunità la smantelli perché ti riduce a pensare alla cura come contenimento oppure scaricato sulle famiglie oppure messo in produzione a profitto quelle esperienze muoiono perché non c'è più un luogo dove lo straordinario diventa sistema e quindi diventa politica penso che questo sia diciamo così se dovessi dire però e anche qua ragione Chiara Saraceno a differenza del passato mi pare che molte di queste esperienze territoriali che prima lavoravano spesso chiuse nei loro specifici e a volte chiuse in un impianto tecnicista in cui sembrava che bastassero le competenze le professionalità stanno scoprendo sia la necessità di agire alla loro dimensione politica sia di quella di mettersi in rete e non soltanto in rete e alleanti tra quelli che si occupano di scuola ma spesso di mettersi in rete quelli che si occupano di scuola con quelli che si occupano di welfare e quelli che si occupano di welfare con quelli che si occupano di social o di ambiente le spinte ci sono il problema è che non si c'è il rapporto con i decisori che è un punto delicato e complicato perché spesso lì c'è una sorta di muro di gomma che quando va bene ti ascolta io lo dico non sono uno che usa molti social ma uso questa cosa io sono per un astag consulte no grazie basta luoghi dove la politica ascolta chi fa e si limita ad ascoltare quello che c'è bisogno sono i decisori che riaprono dei luoghi dove c'è una disponibilità vera a condividere potere sugli indirizzi e sull'uso delle risorse senza questo passaggio molto velemente si continuerà ad ascoltare ma non si porterà a caso un sistema in grado di rendere ordinario quello che oggi è straordinario c'è il microfono spento Franco scusate mi metto nei panni di un insegnante della provincia di Reggio Calabria di Taranto che è la mia provincia che ci sta seguendo e che ha voglia insieme ai suoi colleghi insieme al suo dirigente scolastico di cominciare una esperienza perché ha sentito Chiara Saraceno e Andrea Mordiroli che hanno parlato di esperienze positive in questo paese quali sono i passi e i concreti agganci informativi di base presupposti perché senta che a Palermo la preside di cui parlavi o a Ferrara gli insegnanti di cui parlavi possono dar loro una mano più concretamente il forum con i suoi impulsi con i patti educativi con le sue esperienze quali riferimenti anche informativi può dare a queste persone che al di là della sordità eventuale o della distrazione del decisore vogliono cominciare a creare dal basso un'esperienza se la domanda era rivolta prima a me diciamo così rompendo il giro che abbiamo usato fino adesso io credo che oggi ci sia come dire una sufficiente diffusione di queste esperienze perché nei territori ci siano dei ganci per entrare in relazione con queste esperienze perché sono diffuse sono articolate spesse volentieri sono fatte da soggetti locali ma che a loro volta hanno reti nazionali tu hai citato il forum ma in moltissime di queste esperienze ci sono alcune delle associazioni storiche di questo paese che chiaramente hanno magari c'è il circolo dell'arci o l'associazione di lega ambiente ma in qualche modo poi quel circolo si relaziona all'arci nazionale lega ambiente nazionale che a loro volta mettono in connessione con altri pezzi e quindi in qualche maniera credo che sia quella del contatto insomma di quello che già sta arrivando è evidente che questo non basta ma torniamo al limite da cui dicevo prima perché questo docente del paesino o del paese o della città che vuole iniziare dovrebbe avere direttamente dai decisori anche delle indicazioni di metodo dei canali per poter entrare diciamo così istituzionalmente in contatto con questa esperienza e avere degli strumenti che lo supportino a fare questo tipo di lavoro però mi pare che anche qua negli ultimi anni ci sia stato un investimento adesso è vero che non è come dire esemplificativo ma insomma se io devo pensare a quante richieste ci stanno arrivando dopo la presentazione del rapporto sui patti in giro per l'Italia da esperienze piccole delle aree interne delle grandi città che ci chiedono incontri processi accompagnamenti dal sindacato al circolo appunto del partito alla scuola all'associazione di auto organizzata di una periferia alla parrocchia insomma quindi in qualche maniera come dire le esperienze stanno circolando il problema è l'altro il problema è quello di dare sostegno e strutture certo che se poi questa esperienza una volta che si mettono insieme gli uniti di risorse che gli arrivano sono bandi semestrali a 30.000 euro all'anno con cui non riesci neanche a rispettare i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori è evidente che il contatto di per sé non basta non so se ti ho risposto Franco però un'ultima battuta della professoressa Sara Seno microfono il microfono scusami due piccole integrazioni oltre a guardarsi attorno e vedere chi c'è vicino o chi c'è nel territorio che già queste cose le fa mi verrebbe anche da dire guardarsi attorno nel proprio quartiere per vedere chi sarebbe proprio come dire zona di riferimento per vedere chi sarebbe disponibile non solo del terzo settore per esempio qui a Torino per un'associazione di cui mi occupo che apparentemente non è educativa ma che invece lo è anche perché fa anche queste cose noi abbiamo una grande industria la vazza che lavora con noi cioè che investe insieme ad altre associazioni di terzo settore investe nel lavorare con la scuola col quartiere cioè bisogna come dire individuare quali sono gli attori territoriali di prossimità che potenzialmente interessati a lavorare per migliorare non solo quella scuola non solo il fare scuola o integrare il fare scuola ma la comunità su cui insistono cioè che si fanno carico diciamo così o si sentono responsabili del buon funzionamento di quella comunità e possono variare a seconda dei contesti in cui si è può essere un teatro può essere la mia indicazione è non guardare soltanto al terzo settore non perché sia il terzo settore è preziosissimo e se le inventate molte di queste cose però non può essere soltanto per cui poi i privati invece il privato privato delega tutto e se ne fa un baffo l'esempio di Ferrara che ha fatto il patto con le industrie locali secondo me che è anche un modo di pensare diversamente l'alternanza scuola-lavoro eccetera che pure sarebbe preziosa non alternanza scuola-lavoro ma il rapporto con il mondo del lavoro la seconda cosa mi è passata di mente per cui non la dico perché perché l'ho persa mentre parlavo bene io ringrazio davvero tanto la professoressa Saraceno ringrazio Andrea Morniroli vi chiedo anche come dire scusa per l'insistenza con cui ho tentato di di portarvi sulle cose che funzionano e addirittura vi ho utilizzato per dare indicazioni operative una fondazione di cultura politica nella situazione certo non facile in cui è questo paese si sente impegnata a utilizzare tutte le risorse culturali dovunque nascono in questo paese per concorrere ad uno sforzo collettivo di coesione sociale per uscire da questa situazione complicata in cui siamo e affrontare con un carico non dico di ottimismo ma di proponimento attivo e di impegno una possibile ripresa collettiva di questo paese grazie a voi grazie a tutti alla prossimo appuntamento grazie